Pontedera. 13 settembre 2023 vinse il più forte di tutti. Il russo Pavel Sivakov sul traguardo della Toscana Giro. Una bella edizione della gara nata 100 anni fa. 13 foto foto Luca Bongianni fotocrona che spruzza piazza martiri della libertà di Pontera tutti per cercare la stella del Giro della Toscana. Lo sloveno Tadej Pogakar per un autografo o un selfie. Una vera folla per questo grande campione. Sono stato a riposare più di un mese dopo la Coppa del Mondo, le parole di Tadej penso che fosse necessario scollegare. Ora mi sento abbastanza riposato. Ho un grande desiderio competere di nuovo. Affrontando l'ultima stagione stagione in Italia. Questo è uno dei miei momenti preferiti dell'anno. Spero di fare bene in queste gare di avvicinamento a Lombardia. Tuttavia, applausi tutti i 123 corridori hanno lasciato centro poco prima delle 11.30. Mossiere allo sport comune Emilio Montagnan con team degli Emirati Arabi Uniti e Emirates a Pogakara. Capo gruppo. Verso via dell'industria. Dove zero chilometro rotta ufficiale. Gara organizzata dall'U.C. Pecciora con collaborazione Juventus. L'aria è valida sfida Alfredo Martini. All'incontro. Sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Presidente Fedeciclismo Cordiano Dagnoni. CEO Servizio Ecofor Rossano Signorini. Che nel 2016 voleva andare in giro Toscana non si era tenuto nel 2015 e prima edizione Toscana è. Stata vinta dall'attuale commissario tecnico squadra nazionale Blu Daniele Bennati. Chronicle dopo po' di prolunga e un inizio molto veloce per KM 28. The Escape of the Day è nato protagonisti nove corridori il Pisan di Santa Maria a Montenieri. Vincitore della classifica degli scalatori qualche settimana fa nel lago Cingai. Thomas De Marchi. Garosio. Asparren. Calzoni. Marti. Petrelli. Tagliani che hanno guadagnato fino a massimo di 220 sul gruppo dopo 80 chilometri. Durante la prima salita a Monteserra. 3. De Marchi. Garosio e Calzoni rimangono i L Comando. Il gruppo ha un minuto e mezzo che recupera alcuni dei fuggitivi che sono rimasti distaccati. Il GPM passa per primo De Marchi su Garosio Calzoni con 57 a Rivera e Nieri 120 sul gruppo che in. Discesa i due e passa attraverso buti alla fine della discesa a soli 42 dalla testa della testa. Lo stesso ritardo del gruppo al passaggio dall'obiettivo Pontedera 55 chilometri e mezzo dalla conclusione e. Media generale di oltre 43 volte dopo tre ore gara. Tra i tre inclusi cabot francese ma dopo 123 chilometri di escape 36 dall'arrivo il tentativo è. Stato cancellato e gruppo ha restituito compatto. La salita di Monteserra a grandi lavori degli Emirati Emirati la testa rimase in otto con Pogacar. Formalo. Sivakov. Karapets. Bennett. Grosschartner. Zana e Valgren. Karapets ha ripreso Sivakov ed è stato uno spettacolo. Con la testa in tandem e con Pogacar e Grosschartner in inseguimento. Lo sloveno. Tuttavia. Si è sollevato lasciando compagno squadra il compito di inseguire una coppia scatenata nel comando. Che raggiunse l'obiettivo Pontedera con colpo finale del Rus.